Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi siamo ancora qui con le nostre esche siliconiche e oggi vi mostrerò come innescare un falcetto ovvero un pesciolino di gomma. Questa è un'esca eccezionale perché ha il corpo come quello di una camola ma ha questa codina che praticamente quando recupereremo la nostra lenza farà questo gioco cioè si muoverà e quindi è un'esca molto ma molto performante e catturante soprattutto però per farla entrare in rotazione c'è un modo per innescarla, prendiamo l'amo, passiamo la testa in questo modo e facciamo scorrere tutto l'amo lungo il corpo del nostro falcetto in questo modo. Dopodiché tiriamo su un po' il falcetto sul lamo, sulla paletta del lamo, dobbiamo fare uscire la punta appena prima della codina, perché appena prima, perché se la facciamo uscire troppo prima o troppo dopo l'esca non entrerà in rotazione e come abbiamo detto questo è importante in questo modo. Questo è il modo corretto per innescare un falcetto o un pesciolino di silicone. Io adesso qui sono uscito un pochino prima, forse avrei dovuto scorrere un po' di più, il punto esatto comunque dove uscire è questo, appena prima di dove comincia la codina. In questo modo quando andremo a recuperare la nostra esca, come avete visto l'esca girerà grazie anche alla girella, entrerà in rotazione e oltre a girare il corpo muoverà in rotazione la codina. In questo modo avremo davvero tante catture. Bene, spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo nel prossimo video tutorial, dove faremo l'innesco del lombrico in silicone, che poi è uguale anche per il lombrico naturale. Grazie. Grazie.